Sono Gloria Negri, faccio parte del prologo di Campo San Piero e dell'Otaly Club. Stiamo allestendo la mostra del concorso fotografico di Campo San Piero. È arrivata la sesta edizione, è il sesto anno che stiamo lavorando e è diventato un concorso importante a livello nazionale con numerosi partecipanti da tutta Italia, partecipanti anche di prestigio. Il tema è uno scatto di felicità, un bellissimo tema, un bellissimo titolo, da un'idea del Rotary Club del presidente Leopoldo Costa. Il concorso ha un fine non solo di mostrare delle belle foto di bravissimi fotografi, sia adulti che giovani, e vuole avere però un valore aggiunto, il fine della solidarietà. E quindi, grazie alla raccolta delle iscrizioni e delle sponsorizzazioni, riusciremo a contribuire all'acquisto di una pedana elevatrice per un pulmino che un'associazione di Campo San Piero utilizzerà per il trasporto dei malati oncologici. La mostra viene inaugurata in sette, la sera quindi avremo l'inaugurazione con un buffet, per cui siete invitati e spero che Campo San Piero venga a vedere in questo concorso. All'auditorium Ferrari di Campo San Piero. Le premiazioni saranno la domenica della Fiera della Fragona in Piazza Castello alle 11.30. Innanzitutto il Rotary Club e sicuramente l'associazione che ci ha dato lo spunto per organizzare e per questa finalità specifica. Ma sicuramente ringrazio la Proloco che continua a credere in questo concorso, il comune, il circolo fotografico, la biblioteca, tutti quegli enti, quelle associazioni che credono in Campo San Piero. E' Radio Records! E' Radio Records!